Amici telespettatori, buonasera, ci siamo, una nuova puntata di Polifemo, beh, questa sera è una puntata di veramente di grosso spessore, di grosso livello, siamo infatti in Arcivescovato e abbiamo il piacere di avere con noi, non ospitiamo ma siamo ospiti, dell'Arcivescovo di Taranto, sua eccellenza Monsignor Filippo Santoro. Faremo una chiacchierata a 360 gradi sulla realtà di Taranto vista appunto dall'occhio vigile dell'Arcivescovo, sperando, sicuramente sarà così, di avere dei messaggi di fiducia, delle, io dico, iniezioni, no? Di fiducia, come se ci venisse insufflata questa fiducia perché il momento che vive la realtà ionica è davvero drammatico. E allora intanto, sua eccellenza, grazie per aver accolto il nostro invito. Da dove partiamo? Ci eravamo lasciati circa due anni fa e parlavamo di una Taranto sofferente. Sono trascorsi due anni circa, ma purtroppo forse il quadro è ancora più penoso. Ecco, che idea si è fatto su questa realtà ionica, considerando soprattutto i drammi sociali che poi sono un tutt'uno, un unicum con quelli occupazionali? Sì, l'esperienza di questi anni non è stata positiva. È un insieme di fatti che si succedono, un insieme di decreti che si succedono nei confronti dell'ILVA e anche di altre iniziative. Non sono mancati i miei appelli, ma anche di altre persone, alla concordia, all'unità. Quello che vedo è che però siamo arrivati ad un punto in cui non possiamo perdere più tempo, perché qui se si perde l'occasione che stiamo vivendo adesso, perdiamo il nostro futuro nei prossimi anni. La situazione che viviamo da un certo punto di vista è peggiorata, però da un altro punto di vista, trovandoci ad un punto di decisione, esige delle grandi scelte e dei segnali molto forti. Allora, io ho sempre rigettato l'immagine di Taranto agonizzante, perché se a livello nazionale vendiamo questa immagine ci abbattiamo ancora di più. I problemi ci sono, sono seri, le sfide sono grandi, però non dobbiamo cedere al gioco di chi dice che non si può fare niente. Il compito mio è soprattutto quello del pastore, lo faccio per mantenere viva la fede, la speranza, il protagonismo dei cittadini. È come se tu hai un figlio che ha bisogno di un recupero, ha bisogno di un rinforzo e lo devi tirare su. Non ingannandolo, perché se ci sono degli interventi seri e rigorosi da fare bisogna farli, ma stimolandolo a rimboccarsi le maniche, a lavorare, a non perdere l'occasione che si sta vivendo. Il mio giudizio è che nel momento attuale, insieme a questi segnali di Stas, ci sono anche dei segnali positivi. Allora, i segnali positivi io li vedo, per esempio, qualcosa importante nell'interesse del governo centrale e nell'interesse della regione per Taranto. Certo, non sono degli interessi che hanno risolto la situazione, però da non essere nemmeno considerati, da non esistere proprio, siamo passati ad un'attenzione da parte del governo nei confronti della realtà di Taranto. Lei in buona sostanza dice, come dire, qualcosa comincia a muoversi. Certo, però sta di fatto che al di là delle numerose visite che abbiamo visto di esponenti di governo e quant'altro, come dire, il piatto piange. Perché poi, non solo dal punto di vista occupazionale, vediamo la crisi, ma non mi riferisco solo all'Ilva, penso al discorso anche del commercio, del medio e piccolo commercio. Penso alla desertificazione del borgo e quindi di una piccola, tra virgolette, economia sofferente. Vedere saracinesche, negozi storici di Taranto che chiudono per sempre la saracinesca, la dice lunga. E sull'altro piatto della bilancia una moria ambientale. Pensare che a Taranto c'è una mortalità infantile del 30% superiore rispetto alla media nazionale, la dice lunga. Forse, Sua Eccellenza, è mancata, e parlo in senso lato, ognuno ovviamente per la propria competenza, è mancata forse, c'è un vuoto della classe politica? Evidentemente se siamo a questo punto dobbiamo riconoscere che una maggiore abilità, una maggiore capacità di far squadra, una maggiore capacità di conduzione della cosa pubblica e dell'intervento avrebbe sicuramente aiutato. Però noi, sin da quando, dico come arcidioci, io ho fatto venire qui due ministri, ho fatto venire il ministro Orlando che a suo tempo era dell'ambiente, la ministra della San... Lorenzin, Lorenzin, e poi abbiamo messo insieme anche persone del mondo dell'ambientalismo, abbiamo invitato tutti i rappresentanti, rappresentanti dell'azienda, dell'ILVA, e poi i sindacati, e poi la magistratura, insomma, messi insieme. Poi dopo ho visto che questo era un compito di supplenza, il compito che chi deve farlo lo deve fare. Io ricordo con piacere, Sua Eccellenza, quando si insediò il ministro Orlando, se non erro proprio, e all'epoca fu il ministro Orlando, se era l'ambiente, prima che ora non passasse in parola giustizia, lei in 4 e 4-8 era già a Roma per incontrarlo, per ovviamente manifestare la condizione, la sofferenza di Taranto, al che io esclamai, così simpaticamente, ma era una battuta, ma in effetti ha un fondo grosso di verità, dico ma guardate un po', un arcivescovo che deve svolgere un ruolo, svolge un ruolo incomiabile e che invece la politica avrebbe dovuto fare. Però, dico, meno male, grazie a Dio che abbiamo Sua Eccellenza Monsignor Santoro. Beh, appunto, ho fatto quell'intervento, poi ne ho fatti anche altri. Adesso è chiaro che bisogna, la mia funzione è proprio quella di stimolare e di provocare anche il potere politico a che faccia il suo compito e non a sostituirmi al potere, perché sono responsabilità diverse ed è giusto che ciascuno abbia la sua responsabilità precisa. Quello che io vedo in questo momento è che la rinascita deve precedere la politica. La rinascita è proprio una rinascita da parte della città, di realtà che si mettono insieme e che vogliono fare una proposta positiva. La politica dovrà poi svolgere il suo compito, che è imprescindibile. Lo vedo qui nella città vecchia. Nella città vecchia, dopo che noi ci siamo visti, ho fatto due assemblee popolari chiamando la gente della città vecchia a dare il suo parere, perché sono stato visitato proprio qui da architetti, ingegneri, politici, centri culturali, imprenditori e tutti avevano il loro piano. Io ho detto, ma facciamo una cosa, ascoltiamo prima la gente della città vecchia e poi dopo voi fate i vostri progetti. Partire dal basso, dalle esigenze della collettività. Dall'ascolto della gente. La mia persuasione è questa, che la rinascita viene da un movimento da parte dei cittadini che chi può fare deve fare, come in quell'occasione, nelle due assemblee, una fatta con il sindaco e con tutte queste associazioni e lì i nostri cittadini della città vecchia sono andati non sulle cose sofisticate. Signor sindaco, piove a casa mia, non riesco ad arrivare a fine mese per il latte per i bambini, la legalità qui non la veniamo rispettata. Cioè domande... Quindi l'ascolto della gente, primo punto. Secondo punto, la rinascita che viene dai ceti, diciamo anche dal ceto medio, dalle persone di buona volontà, dal nostro popolo che si faccia ascoltare per arrivare a che cosa? Prima di trovare un politico o l'altro che risolva la situazione, perché non è così, non è il salvatore della patria che funziona, ma gruppi di persone, movimenti che spingono verso una rinascita morale e sociale. Ecco, nella prossima primavera si voterà per la rielezione del Consiglio Comunale e del sindaco. Il sindaco Stefano, avendo già ricoperto due mandati consecutivi, non potrà ricandidarsi e quindi si dovrà individuare una nuova figura, una nuova identità di sindaco. Pertanto, a prescindere dai colori politici, dagli schieramenti e dalle casacche, anche perché credo che a livello locale non ci sia quella coloritura, diciamo, che invece a livello governativo può esserci. Qui non stiamo parlando di unioni civili o non stiamo parlando di aborto, non stiamo parlando di altri macrotemi, parliamo di ambiente, di occupazione, di vivibilità, dei problemi che il cittadino ogni giorno vive. Ecco, quali dovrebbero essere queste caratteristiche del sindaco? Ci delinei il suo sindaco ideale, proprio alla luce della situazione che vive Taranto? Beh, il mio sindaco ideale deve essere innanzitutto uno che vuole bene alla città, che quando trova una situazione come questa si deve rimboccare le maniche. Papa Francesco ha detto, noi siamo un ospedale da campo, deve essere uno che interviene, cioè che lo fa come vocazione proprio, uno che si dedica al bene della città, vuole il bene della città e che abbia, prima cosa, seconda cosa, capacità di ascoltare la gente, di ascoltare le domande che le varie categorie gli rivolgono e poi capacità di proporre, propositiva, di mediare le varie esigenze, perché ci sono esigenze contrapposte, chi tira da un lato, chi tira dall'altro. Io aggiungo anche un sano decisionismo, ma nel senso forse l'espressione decisionismo con questo ismo, con questo suffisso può essere fuorviante, ma intendo un sindaco deciso a portare avanti le battaglie per Taranto. Certamente, una capacità di decisione, di intervenire, la maggioranza è maggioranza, l'opposizione è l'opposizione, si prevede un piano, si fa un piano, si fa quel piano lì. E poi una caratteristica su tutte le altre che è proprio quella della moralità, cioè una moralità integerima. Però questa qui deve essere messa a servizio della soluzione dei problemi, non semplicemente dell'analisi, perché di analisi ce ne sono tante, della soluzione, di cominciare a rischiare. E io comincerei a rischiare innanzitutto con l'ascolto della gente, poi ancora con la cultura, la valorizzazione della cultura, la valorizzazione delle nostre scuole, la valorizzazione dell'università, della nostra università, la valorizzazione delle risorse culturali che abbiamo, penso oltre all'università, al paesiello, penso al Martà, al Museo Diocesano, al Mudi, al Castello Aragonese, alle nostre risorse, ai dipogei, cioè una valorizzazione. Perché? Allora qui dobbiamo riprendere due grandi energie che ci vengono, innanzitutto dalla storia di Taranto, dalla storia plurimillionare di Taranto, e questo è inutile spenderci tanto sulla tradizione, e poi l'altra energia, l'energia che viene dalla fede, questa è una cosa straordinaria. Io il primo anno che sono venuto qui ho visto la processione dei misteri, ho visto tutta la gente presente, e ho detto, se foste così nella vita avremmo risolto tutti i nostri problemi, perché è una cosa impressionante vedere un'attenzione, ma proprio un corale, ed è così la fede che li mette insieme, cioè che uno può avere una pratica più intensa, meno intensa, però vedi che lì nel mistero della vita, nelle ragioni della vita, nel significato della vita, uno si ritrova, e se lo vive con verità, con intensità, come Chiesa noi cerchiamo di farlo, ascoltando il grido dei poveri e ascoltando il grido della terra, queste due cose sono importanti, l'ho imparata in Brasile e poi la ripete Papa Francesco nella enciclica Laudato Si, ascoltare il grido dei poveri e ascoltare il grido della terra. Ecco, lei ha citato Papa Francesco, è chiaro il desiderio di noi tarantini di averlo qui, un Papa eccezionale che con il suo carisma riesce a dare fiducia anche nei casi disperati. Riusciremo a coronare questo sogno? Io l'ho detto varie volte, Santità vede che la situazione in cui ci troviamo a Taranto ha proprio bisogno di una sua visita per rincuorare tutti quanti, per metterci insieme, e lui dalla prima volta mi ha detto desidero venire a Taranto, il desiderio è questo. Poi dopo gliel'ho ridetto anche quest'anno, all'inizio di quest'anno, Filippo, vedi come sono messo da tutte le parti del mondo, mi tirano eccetera eccetera, comunque il mio desiderio rimane vivo. E adesso io batterò, insisterò sul desiderio, anche se non è che glielo posso ricordare tutte le volte, tant'è vero. Repetita Juvent. Tant'è vero che nell'incontro di maggio della conferenza episcopale italiana, lo saluto, domanda come va a Taranto, cioè per dire, ha ben precisa la cosa, non è una cosa, ha identificato, già mi conosceva prima, ma adesso sa che proprio la problematica gli è nota, ed è una problematica di rilievo locale e di rilievo internazionale. Lei ha fatto riferimento alla città di Taranto, alla città vecchia, a quel pathos che notiamo nella, per esempio, nella settimana dei misteri, nella settimana santa. E quindi emerge il tema della fede. È importante la fede, un'ancora di salvezza, un'ancora di speranza, ma mettiamoci, ecco, cosa dire a un giovane che sbatte da anni e anni per trovare un lavoro, o ancor peggio, chi l'ha trovato e poi lo perde e ha moglie e figli al seguito, o casi di disperazioni sociali, dico io, quando poi alla penuria economica si aggiungono anche problemi di salute. La fede è indubbiamente come faro, ma come renderla nutrimento? Giustamente. La fede ci spinge all'azione. Non è solo il momento in cui ci commuoviamo in maniera profondissima quando esce la dolorata da San Domenico, quando passano i misteri. Ci spinge all'azione. Che cosa ha spinto me? Io mi sono trovato nella conferenza episcopale italiana con tutti i vescovi dell'Italia e gli ho detto guardate che al sud e a Taranto il problema della disoccupazione giovanile, quello a cui tu facevi riferimento, è impressionante, 54,5% di giovani disoccupati dai 15 ai 25 anni e poi altri che non cercano lavoro. Allora ho detto ai miei amici, vescovi soprattutto del nord, guardate che la questione lavoro è prioritaria. Ora per questa mia insistenza sono andato a finire a presiedere la commissione per i problemi sociali, lavoro, giustizia, pace, custodio dell'ambiente e poi sono tornato, sono tornato alla... la questione è posta, è sollecitata e allora ho fatto anche un ulteriore intervento come presidente dicendo che manca una strategia specifica per il sud. sì, ci sono interventi, c'è il patto per la Puglia, c'è il patto per questo, il tavolo di Tarato, il CIS, eccetera, eccetera, ma è importantissimo una strategia specifica nazionale perché se si risolleva la situazione del sud, della Puglia, ne ha giovamento tutta l'Italia. Sua Eccellenza, come mi piacerebbe quasi, lo dico simpaticamente, prestare la sua voce a chi ci rappresenta, no? Perché questa poi è la verità di un sud sofferente, di un sud... Io amo tantissimo Taranto che ovviamente è la mia città, ma amo un'altra città del sud che è Napoli che pur con le sue contraddizioni, con le sue sofferenze, con la sua pericolosità sociale anche purtroppo in tantissime occasioni, però è quel popolo che pulsa, è quel popolo che sa darti il calore, il calore umano. Bene, un dialogo davvero importante quello con l'Arcivescovo di Taranto, ma soprattutto un dialogo sincero, diretto, senza infingimenti, senza giri di parole. Andiamo con... Si va subito con Sua Eccellenza in Medias Res, ma ora qualche minuto per gli obblighi pubblicitari e poi saremo di nuovo con voi perché, ripeto, le tematiche da sviscerare sono tante, davvero numerose. A tra poco. Bene, rieccoci. Seconda parte di Polifemo, una lunga chiacchierata, un lungo faccia a faccia con l'Arcivescovo di Taranto, Sua Eccellenza, Monsignor Filippo Santoro. E allora, Sua Eccellenza, lei ha fatto riferimento alle risorse di Taranto e quindi il pensiero al mare, alla risorsa turismo, al patrimonio archeologico, alla cultura, alla storia di Taranto. Io ho una posizione mia, un mio modo di vedere, dico che quando si è fatta la scelta dell'Ilva, dell'Ital Sidera, allora forse il territorio è stato violentato nella sua essenza. Ma al di là di questo, io dico abbiamo dei doni che Madre Natura ci ha dato e che dobbiamo sfruttare, dobbiamo valorizzare. In altre parti d'Italia sanno valorizzare anche la minima pietra, tra virgolette, che evoca eventi storici. Ed è giusto, ed è sacrosanto che lo facciano. Dovremmo fare anche noi lo stesso, perché avere quelle ricchezze e poi non sfruttarle appieno è davvero un peccato, uno spreco, un calcio alla grazia di Dio, dovremmo dire. Certamente, le risorse vanno pienamente sviluppate e vanno messe in evidenza. E soprattutto, nel livello educativo, con i bambini, con i ragazzi, deve essere fatta presente la ricchezza, sia culturale, dal punto di vista storico, ma anche dal punto di vista naturalistico e dal punto di vista geografico, dei diversi aspetti della nostra terra. Quindi, è indispensabile una valorizzazione, per esempio, dell'agricoltura. È indispensabile una valorizzazione del piccolo e medio artigianato, e del turismo, e del mare, con tutte le sue risorse. Qui noi abbiamo fatto il giubileo dei marittimi, dei marinai, i mariti, ed è stata una cosa bellissima a livello di partecipazione. Appena si dà un segnale, c'è una risposta positiva. Quindi, intercettare queste realtà qui e farle diventare protagoniste della vita sociale, della vita pubblica. Ancora, una ricchezza molto valida, molto importante, è qualche segnale nella nostra città vecchia, di qualche esercizio in più che comincia ad apparire timidamente, e poi ancora, delle capacità, dei talenti, a livello musicale, a livello artistico, che devono essere sviluppati. E poi dopo, diciamo, bisognerà pure affrontare, speriamo che sia la volta buona, il grosso problema del siderurgico, perché lì una soluzione bisogna darla, perché secondo me non si può stare nel vai, non vai, chiudi, apri, non chiudi, eccetera, eccetera. Però, il criterio è importante, il criterio che non sia, che non si continui a vivere della monocultura, che la realtà dell'ambiente è coniugata, come dice Papa Francesco, è l'ecologia integrale, cioè che integra la questione dell'ambiente con la storia, con la cultura, col mare, con la terra, col paesaggio, con la tradizione. E parlando di sviluppo del territorio, emerge la problematica delle infrastrutture. Indubbiamente un territorio, se lo si vuole far crescere, deve essere adeguatamente infrastrutturato. Penso ai vari collegamenti ferroviari, Taranto è un po', come dire, negletta, rispetto a certi collegamenti. Ho fatto anche una battuta ad altri, il Frecciarossa, noi Temparossa. Ma al di là della battuta, penso anche, per esempio, all'aeroporto. L'aeroporto, la destinazione del cargo, ok, però non basta. La battaglia per i voli civili, perché se noi abbiamo un aeroporto, e c'è, non è che lo dobbiamo costruire, sfruttiamola, altrimenti, non so, quella pista a cosa serve, cioè rimane così, inutilizzata, rimane sprecata, considerando anche che quella pista è l'unica, a differenza di Bari, a differenza di Brindisi, che è deputata ai voli intercontinentali. quindi, con quella pista, la Sua Eccellenza, se lei decidesse per un attimo di fare un ritorno in Brasile, da Grottaglie lei arriverebbe subito. Certamente, è la valorizzazione di quanto è presente nel nostro territorio, e quindi, è chiaro che la valorizzazione dell'aeroporto di Grottaglie è uno dei punti chiave. Allora, volete pensare a dei collegamenti rapidi con altre città, per dire, la Basilicata, la Calabria, eccetera, eccetera, in modo da renderlo non solo serbatoio della nostra area, della provincia di Taranto, ma ampliamolo. Cioè, è giusto che a un certo punto si studi la possibilità. Come punto di riferimento anche della Basilicata e della Calabria? Certo, perché è un punto importantissimo, lo vedo, e poi diversi altri aspetti insieme con l'aeroporto. Io ritengo che la ripresa deve essere proprio questo sguardo globale. Abbiamo parlato prima delle risorse morali. Le risorse morali, un'intelligenza della situazione, un investimento trovando risorse positive per l'occupazione dei giovani. Allora, noi stiamo preparando la settimana sociale dei cattolici italiani che sarà l'anno prossimo in ottobre a Cagliari. Io ho insistito perché il tema fosse il lavoro. Perché? Perché questo comporta innanzitutto la denuncia di certi aspetti, cioè della disoccupazione. C'è una città, 50, nel sud in certi posti si arriva al 60%. Ma non solo della denuncia, ma anche le buone pratiche, cioè mettere in evidenza le buone pratiche che ci sono, non piangerci addosso e ce ne sono diverse, ce ne sono tante di giovani, di persone di una certa età, buone pratiche in cui un territorio che rimane arido si sviluppa insieme. Quindi l'idea di un lavoro, perché è inutile dire la situazione non si cambia se non si dà respiro alle aziende, se non si dà respiro alle imprese, se non c'è creatività, se non si mostrano buone pratiche, allora l'aspetto è proprio quello di promuovere buone pratiche e di incidere sulla legislazione, di incidere sul legislativo oltre che sul governo. E questo il nostro obiettivo ora nel prossimo mese di febbraio 8 e 9 faremo a Napoli un mi sono messo in questa prospettiva perché l'incontro di Cagliari sarà preparato da alcuni incontri locali. A Napoli quale futuro per i giovani nel sud? E lì ho detto vabbè la denuncia la dobbiamo fare e si arriva presentando dei filmati di denuncia noi a Tarno ne potremmo fare tantissimi un filmato che proprio proprio ce l'ho qui nel cuore che mi lacera è l'ultimo funerale che ho fatto per Dilva Giacomo Campo che è deceduto una denuncia però devi mettere pure una buona pratica e una buona pratica ce l'abbiamo per dire vicino proprio qui all'Ilva delle piante che riescono a trasformare terreni inquinati la canapa la canapa terreni inquinati in un luogo salutare quindi ora come la facciamo noi a Taranto così tutto il sud che presenta buone pratiche e poi interviene al legislativo per dar forza per togliere anche per le aziende una fiscalità esagerata insomma uno sguardo di insieme per intervenire perché la speranza la fede diventi azione e ha fatto vedere un'idea chissà sarebbe anche bello magari seguire mediaticamente a Napoli che Polifemo segua mediaticamente questo evento perché parliamo di giovani parliamo del sud è un'idea su cui si può lavorare per far sì che ripeto questi dialoghi queste chiacchierate io dico che noi facciamo possano anche avere possano anche ampliarsi e come dire mettere in evidenza quelle quei laboratori no che si stanno sviluppando come sarà mi diceva quello del lotto e noi ci penseremo su questa su questa fare proprio uno speciale Polifemo venire con le nostre telecamere a Napoli anche perché è una città che io adoro come ho detto ma al di là della battuta proprio per considerare ritorniamo al discorso dei giovani purtroppo noi assistiamo a questa triste realtà i giovani ragazzi fanno le scuole medie fanno le scuole superiori arriva l'università e da quel momento in poi purtroppo non li vediamo più a Taranto li vedremo solo a Natale a Pasqua per trovare i propri cari perché poi prima l'università e poi il mondo del lavoro perché molti giovani preferiscono purtroppo cercare fortuna altrove o rimanere diciamo laddove hanno studiato una volta si partiva con la famosa valigia di cartone ora si parte col trolley però la realtà non cambia ed è triste vedere una città depauperata nelle proprie intelligenze nelle proprie eccellenze bisognerebbe costruire i presupposti affinché quel patrimonio acquisito altrove negli studi universitari ma io dico anche rafforziamo l'università sul territorio perché quando si è parlato c'è stato il caso della soppressione di maricoltura di beni culturali la dicono lunga allora rafforziamo la nostra università la nostra offerta universitaria e se poi si va fuori per altre ragioni sempre di studio poi magari facciamo sì che quel patrimonio non venga come dire alienato per sempre ma quel patrimonio acquisito ritorni in loco sul nostro territorio evitiamo la fuga dei giovani certamente la mia insistenza sia qui ma soprattutto in Italia in conferenze episcopali italiane e sul tema dei giovani specifico il tema dei giovani è importante tant'è vero che il santo padre farà il prossimo sinodo dei vescovi l'ultimo è stato sulla famiglia questo sarà sui giovani sui giovani in tutti gli aspetti ma io dico qui i giovani devono avere una una formazione culturale di base solida universitaria attraente e poi se ci sono delle eccellenze è giusto che vadano fuori però al tempo stesso bisogna pure incamminare al lavoro qui c'è un progetto interessante che è il progetto Policoro nel sud dell'Italia noi in Puglia qui in Taranto che provvede all'occupazione giovanile ci sono questi segnali devono essere sorretti come dicevi all'inizio da un'azione politica intelligente in modo che le eccellenze possano anche andare fuori ma devono tornare pur io ho studiato a Rom poi sono andato in Brasil poi sono venuto qui cioè deve essere messa a servizio della nostra terra questo è importante perché suscitare l'amore della terra io dico che nel nostro piccolo con i giovani abbiamo fatto anche con un gruppo di giovani laureati o neolaureati o che cominciavano a lavorare la scuola di formazione sociale l'abbiamo fatta presso la Lums e Don Antonio Panicola la guida ed è una risposta interessante quando già nessuno vuol sapere più di formazione sociale e politica io l'ho fatta chiamare formazione sociale senza metterci in politico di mezzo se no dice ah vuoi fare non esiste la prima cosa è formare la persona che abbia lo sguardo non al profitto ma alla sua realizzazione personale e all'attenzione a chi ha più bisogno proseguiamo il nostro dialogo la nostra chiacchierata affrontando un altro tema quello della sanità intanto io parto da un presupposto che il paziente l'ammalato non è un numero ma è un essere umano nella propria dignità per cui il criterio meramente ragionieristico quello di dire chiudiamo reparti chiudiamo questo chiudiamo quest'altro per carità la sanità è un'azienda e quindi chiaramente ne c'è dico passatemi l'espressione sanità uguale azienda ci sono ovviamente dei conti da tenere ben sotto controllo però la dignità del del paziente in primo luogo per Taranto dovrebbe aprirsi ovviamente una corsia preferenziale una città violentata una città oltraggiata dall'insulto ambientale dall'insulto dell'inquinamento beh certamente merita e questo è un appello che andrebbe rivolto voi a regione voi a stato trattamento tra virgolette di favore perché gli ultimi dati che sono stati citati relativamente alle neoplasie soprattutto alla mortalità infantile impongono una corsia preferenziale per Taranto Taranto ha diritto di vivere Taranto non è carne da macello sicuramente è indispensabile un un ospedale diciamo un polo oncologico visto che siamo un territorio esposto all'inquinamento e quindi a timori specifici ci deve essere non è possibile che si risolva solamente con una specie di servizio ambulatoriale all'ospedale nord cioè ci vuole qualcosa di più ampio di più organico quindi la ristrutturazione della sanità deve essere deve essere proporzionata anche nella regione e perciò per Taranto questo aspetto è prioritario vista la sofferenza ma anche rispetto ad altre città ho l'impressione che ci sia un servizio inferiore a quello che altre città che non hanno i nostri problemi ricevono perciò qui c'è proprio da rimboccarsi le maniche e da intervenire e poi la razionalizzazione dei reparti ok però fino a un certo punto perché poi razionalizzare non deve conculcare il diritto alla salute le liste di attesa per una realtà come Taranto vanno assolutamente bypassate vanno assolutamente abbattute non ce lo possiamo permettere come anche i viaggi della speranza le persone che devono andare o a Bari o a San Giovanni Rotondo o al nord eccetera eccetera noi abbiamo tutta la possibilità di questo di un ospedale io chiamavo un polo oncologico sono le possibilità di collegare insieme la ricerca medica la ricerca scientifica e la risposta al problema ambientale tutto questo fatto con un cuore perché su questo io insisto perché noi possiamo avere le migliori tecniche ma se ci manca il cuore tu non ti fai ferire dalla realtà che sta e io come pastore la cosa che più sento la sento perché qui tutte le mattine vengono le persone sia ferite dalla malattia sia ferite che non hanno lavoro qui c'ho un cassetto con i curriculum e quindi uno si fa ferire proprio dalla sofferenza e perciò questo aspetto della medicina della sanità è realmente un aspetto prioritario bene ora qualche minuto di pubblicità poi riprenderemo il nostro dialogo con Monsignor Santoro con Sua Eccellenza Monsignor Filippo Santoro vogliamo anche ora così giusto per stemperare tra virgolette i toni certamente abbiamo affrontato argomenti tematiche pesanti che effettivamente riguardano il territorio e ci fanno soffrire è giusto farlo perché Sua Eccellenza non bisogna mai mettere la polvere sotto il tappeto assolutamente se c'è una situazione la situazione va curata è inutile ignorare il problema o volerlo camuffare è giustissimo l'intervento deve essere fatto deve essere indicato e poi bisogna accompagnare come il modo come si dà la risposta ora andremo in pubblicità poi al rientro cercheremo dicevo di stemperare tra virgolette il dibattito il dibattito sono abituato al dibattito alla chiacchierata con l'arcivescovo anche parleremo degli aneddoti che potrà raccontarci di questo suo questa sua permanenza a Taranto dal suo arrivo ad oggi l'arcivescovo arrivato dal mare ecco tanti magari quegli episodi che più gli sono rimasti a cuore e che devo dire sua eccellenza lei è proprio un punto di riferimento per la nostra collettività ma tutto questo a tra poco pubblicità rieccoci dovrei dire in studio no rieccoci in arcivescovato siamo con l'arcivescovo di Taranto sua eccellenza Monsignor Filippo Santoro come detto prima del break pubblicitario abbiamo affrontato quei temi davvero pesanti relativi all'area ionica ma ora vogliamo parlare dell'esperienza umana della sua esperienza umana a Taranto cinque anni fa a gennaio ricorrono i cinque anni ricorre ricorrono i cinque anni il primo lustro e l'arcivescovo venuto dal dal mare un rapporto sempre più forte con questa città ci racconti qualche episodio qualche aneddoto che la fa sentire Tarantino di adozione beh ce ne sono tanti una uno una volta solo per raccontarne qualcuno una volta finivo una riunione impegnativa sul problema della salute proprio la questione dell'ambiente la salute ambiente salute in università qui a via Duomo e dopo avevo un'altra assemblea qui in in arcivescovado su sui riti della settimana santa sulle processioni sulle confraternite quindi due cose impegnative la prima è stata dalle nove alle undici alle undici undici e un quarto cominciava là esco fuori e viene un signore che mi prende sotto braccio e e e mi dice in Tarantino avendo con me allora dico io scusa ma ho la riunione subito dopo qui per la questione delle processioni con fratelli no 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 se non ti prendo adesso non ti prendo più allora e dico ma cosa vuoi e no devi venire a dare una benedizione a casa e mi dice ma scusa ma fissa con il segretario e vengono no 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 se vieni e che cos'è e mi ha detto spiegami che cos'è ho due figli disabili allora vengo subito allora mi prende sotto braccio mi porta le viuzze qui della città arrivo arrivo dico scusa avviso sua moglie che sto andando no perché se l'avviso si agita sono andato lì e siamo arrivati c'era un'altra figlia che era quella che curava la casa che quando mi ha visto poi mi ha portato con i due ragazzi disabili che appena la moglie la mamma mi ha visto e gli ha detto a loro guardate questo è l'arcivesco c'ha l'anello baciato l'anello e non mi lasciavano più la mano perché erano così affettuosi proprio è stata una cosa bellissima poi dopo dopo che abbiamo chiacchierato allora la mamma ha detto la salute eccellenza sono contentissimo volevo preparare qualcosa non si preoccupa suo marito ha fatto tutto allora va dice ai due ragazzini fu attorno 15-16 anni adesso ce ne avranno un pro di più allora guardate oggi è venuto l'arcivesco in casa avete visto l'anello è venuto Gesù e io ho detto eh sì signora il suo marito mi ha detto sono venuto poi esco fuori il marito mi riprende sotto braccio dice ma dov'è che mi vuoi portare dice no no è solo per dire le celeste che se prima le volevo bene ma non so capisce l'accento varese non penso che abbia detto così questo beh Davide comello è quello giusto un'inflessione varese beh questo è certamente un episodio simpatico lei viene dall'esperienza forte del Brasile ci sarà anche un po' di nostalgia la chiamano saudage no? ecco forse ci possono essere delle analogie tra quel mondo e questo di Taranto forse come spontaneità perché forse siamo delle popolazioni calienti tra virgolette spontanee sincere forse talvolta poco calcolatori però con una grande umanità ma certamente le analogie sono molte io ne ho trovate tante tante somiglianze particolarmente con la città vecchia qui dove io abito e quando io salgo quando esco fuori è d'obbligo che nel bar della signora Grazia devo prendere il caffè perché se passo avanti senza prendere il caffè è un'offesa ma poi tutto e poi uno mi domanda quella cosa lì quell'altra cosa lì eccetera cioè è un clima cordiale che proprio mi fa ricordare il Brasile e certo i problemi brasiliani sono un pochino più grandi stavo usando quasi un piccolo l'espressione tarantina si è fatto perdonare quel quel baresismo allora 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 vedo vedo questa somiglianza però vedo proprio l'esperienza del cuore la sensibilità e poi la capacità anche di solidarietà la capacità di di venire incontro al bisogno dell'altro di venire incontro ai bisogni più immediati è chiaro in Brasile le cose erano più vistose per dire se andavi nelle favelas nelle favelas c'era soprattutto ora un po' meno però c'era il controllo del traffico di droga che era micidiale cioè tu prendevi una volta sono andato con un sacerdote in una favela e ho trovato un tronco all'inizio della salita della favela e io ho detto beh togliamolo no non si toglie il tronco ha visto il ragazzino vedi quello lì che sta di guardia quello lo toglie lui il palo e poi noi possiamo salire perché noi qui siamo rispettati anche non condividendo sapendo che siamo contro ogni forma di droga e di traffico però siccome curiamo i bambini siccome siamo vicini alla gente ci rispettano tutti quanti e perciò allora quando io passo per le nostre strade stradelle poi giro Vico Santimedici via Cava eccetera eccetera sento il calore umano così non vedo il tronco in mezzo alla strada però però voglio dire la sensibilità l'attenzione e poi dopo anche diciamo in momenti specifici anche la fede intensa bella popolare c'è qualcosa prima abbiamo parlato dei confetti ora diciamo parliamo dei difetti c'è qualcosa che l'ha fatta arrabbiare in questi anni qualcosa magari proprio nei rapporti diretti con la città qualcosa che proprio l'ha fatta un po' innervosire le ha fatta un po' saltare i nervi beh vabbè la cosa generale è che è che una certa rivolta poteva accadere prima abbastanza quando sono venuto io è scoppiata la cosa c'era tanto tempo il problema com'ava avete aspetti si poteva far prima ma lì è stato forse l'uomo della provvidenza è venuto proprio perché questo è l'aspetto l'aspetto che secondo me in certe cose si può concludere più 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 rapidamente più facilmente dopo che si è discusso dopo che si è fatto si prende una decisione e si va avanti però sto vedendo una cosa interessante che sui progetti della diocesi c'è una risposta immediata qui proprio qui accanto verrà il centro notturno di accoglienza per senza tetto proprio qui al lato che è un palazzo del Settecento Palazzo Santa Croce e allora quando ho pensato I perdoni è vicino al Vico Saminario dove era Caritas dove era la Caritas io ho fatto il servizio civile nel 1998 e le dico è stata una delle esperienze più belle della mia vita io ho deciso di fare il servizio civile pur essendo figlio e nipote di militare però ho ritenuto opportuno poter servire io dico la mia patria in questo modo è stata un'esperienza bellissima informativa certo lì c'erano gli uffici della Caritas poi c'erano degli appartamenti delle cose abbiamo sistemato quelli che vi abitavano in altri posti e abbiamo perché c'era il mandato di ristrutturare non poteva essere più agibile allora verranno alcuni uffici della Caritas ancora lì e poi il nostro centro notturno di accoglienza per poveri italiani quanti posti sono 40 posti per uomini e 20 per donne più una tre suite per ragazze madri il barbiere la doccia tutte queste cose qui pronte perché le persone possono essere accolte ma se ora si vede la poi anche la mensa la mensa la mensa le docce poi se uno va che i lavori stanno per per essere completati il Papa Francesco dice per l'anno santo lasciate un'opera noi abbiamo cominciato un po' prima però cade proprio bene questa opera qui e vedo la partecipazione ho detto sia le confraternite gli utili devono andare per la gratuità quindi dovete contribuire alle parrocchie i sacerdoti fedeli gruppi di associazioni i medici di ingegneri eccetera eccetera che fanno il loro giubileo e danno stiamo e poi ho detto dovete conservare anche se è una casa di accoglienza deve conservare lo stile artistico se si va a vedere lì è la bellezza il posto trattato bene con la parete a muro a tufo visibile e poi l'arte perché perché una cosa che ho imparato la bellezza è per tutti per i poveri la cura della bellezza perché deve essere una cosa ben fatta e ho visto che la risposta è interessante e certo ci vuole dicevi qual è il limite che ci vuole un po' di tempo per far muovere la locomotiva però dopo come anche l'altra nostra opera sarà il convento il monastero delle carmelitane di Poggio Galeso quelle dove c'erano le carmelitane erano rimaste in tre e sono tornate a Bari al convento delle carmelitane e loro hanno dato alla diocesi quel convento perché si faccia un centro di accoglienza per migranti per profughi e un centro di spiritualità quindi lì ho visto la gente che ha risposto positivamente perciò dico cuore grande problemi segni segnali che ci abbiamo che ci fanno sperare bisogna coagulare le forze e concretizzare quella è la rinascita sia della città vecchia che sede la città lei ha citato ovviamente abbiamo parlato di immigrazione è una tematica a livello altro che nazionale mondiale l'Italia e Taranto in particolare Taranto è diventata una terra di accoglienza è però da un lato questa realtà dall'altra la sofferenza locale della delle popolazioni locali della cittadinanza per cui molte volte assistiamo a espressioni poco intelligenti anche abbastanza qualunquiste che parlano alla bocca alla pancia per così dire quando ci si sente dire ma prima di accogliere gli immigrati perché non pensiamo agli italiani cosa replica? Replico che qui stiamo facendo esattamente il centro notturno di accoglienza per senza tetto degli italiani e poi facciamo pure quell'altro perché è giusto cioè tu devi dare attenzione ai nostri poveri e agli altri e la devi dare non con le parole ma con i fai mi riferivo più magari a tematiche nazionali che stanno divampando no? questi fuggono dalla guerra dalla fame da dittature dallo sfruttamento dalla morte come fai è un fenomeno di proporzioni così grandi è chiaro che non dobbiamo trascurare i nostri poveri questo sì però non si può non si può chiudere le porte della città e del cuore e la risposta che abbiamo visto anche qui a Taranto dopo i primi momenti in cui quando sono arrivati quelli che gli ausiliari con le mascherine che c'è stato un po' di titubanza dopo c'è stata un'attenzione bella e positiva e poi anche un'altra iniziativa che noi che stiamo promuovendo con il Tribunale dei Minori che è l'affido temporaneo dei minori non accompagnati alle famiglie allora io quando abbiamo fatto il pellegrinaggio di tutta la Dioce mi è andata a San Giovanni Rotondo eravamo 5.000 persone lì ho detto il servizio la carità deve essere concreta prepariamo le nostre famiglie ad accogliere anche i minori non accompagnati il Tribunale dirà questa famiglia idonea non idonea perché dobbiamo fare le cose in regola quindi nel cuore della nostra gente c'è un'attenzione se le cose sono fatte bene le persone rispondono abbiamo affrontato questo tema dell'immigrazione torniamo a parlare di altri argomenti che relativa alla situazione locale il rapporto con le confraternite all'inizio c'era stata ci si è chiariti diciamo c'erano state magari non delle incomprensioni ma delle precisazioni puntualizzazioni che lei ha voluto fare ha ascoltato le esigenze delle confraternite e si è arrivati ad una soluzione comune che ovviamente ad una finalità comune che ovviamente è il sociale è l'aiuto dei più deboli certo con riferimento appunto alle varie entrate e quant'altro si pensa per esempio alle aste per le statue e per le varie processioni però la finalità è quella appunto dell'aiuto verso chi è più bisognoso Sì il mio intervento era perché non fosse il momento diciamo dell'asta come il fattore determinante tanto che le aste cominciano la domenica delle palme dopo il vespro cioè la giornata deve essere la giornata della memoria dell'ingresso del Signore a Gerusalemme è quello lì quindi già questa indicazione da dopo il vespro si comincia e poi dopo che gli utili è una tradizione storica è una tradizione io per l'esperienza avuta nella nostra terra di Puglia da Bari a Carmonar a tutti i paesi Bitonto eccetera eccetera ce l'abbiamo nel sangue poi venendo qui vedo un'eccellenza come questa straordinaria però la finalità deve essere la gratuità e il servizio ai più poveri su questo loro sono stati d'accordo perché questo immette e poi ancora delle 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 stag degli dei mezzi portati anche da persone non ambienti fatte date gratuitamente cioè questo è accaduto introdurre la gratuità sia nei servizi che venivano prestati sia nel risultato finale ed è importante perché questo dà a tutta la celebrazione la possibilità di recuperare il massimo della settimana santa che è l'amore gratuito di Dio e tu lo metti a servizio di chi ha più bisogno ci avviamo alla conclusione della nostra lunga chiacchierata il rapporto con i parroci in rapporto con gli altri sacerdoti lei deve un po' coordinare talvolta c'è qualche come dire estemporaneità diciamo così qualche ismo però poi tutto sommato lei da buon pastore sa condurre il suo greggio diciamo che io sono contento del clero tarantino cioè un clero preparato un clero generoso si impegna e poi soprattutto partecipa quando noi facciamo il ritiro noi facciamo il terzo venerdì del mese facciamo il ritiro di tutti i sacerdoti e io ho detto ma perché non ci fermiamo anche a pranzo insieme così si condivide la mensa si condivide si fa gruppo poi nel pranzo si ripigliano le cose si conversa si dice lo fanno le aziende allora lì noi diciamo questo è uno strumento che aiuta la conoscenza e aiuta la parola per noi più importante la comunione perché il sacerdote non esiste da solo esiste con il presbiterio e con il vescovo quindi questo è il pranzo è la cosa più semplice e più importante tanto che Gesù l'ultima cena l'Eucaristia l'ha fatta durante la cena e quindi questo è importante poi dopo ci sono i temperamenti di uno di altro dell'altro ci possono essere delle intemperanze ogni tanto però quando il vescovo chiama a dire ma scusa ma attenzione a questo quest'altro aperto io non ho avuto problemi ho avuto un'attenzione perché bisogna valorizzare l'intenzione positiva che un determinato parroco ha secondo la sua cultura la sua sensibilità ma metterla a servizio dell'insieme non che uno se ne va per i fatti suoi la creatività va bene ma coordinata dentro il cammino che la Chiesa ci indica che Papa Francesco ci indica e che quando dicevo quando abbiamo cominciato quest'anno il nostro anno pastorale io ho lanciato tre parole la prima parola che ci conduce quest'anno è la parola commozione uno non può fare il prete così come un funzionario ma commosso chiunque viene chiunque se uno mi viene qui a trovare è l'attenzione per commozione e poi commozione dice anche muoversi con insieme commoveo e non solo la commozione l'emozione il sentimentalismo no ma muoversi nei fatti perciò dico i sacerdoti sono un segno di questa vicinanza perché noi portiamo questa speranza di essere vicini alla gente nei problemi nelle sofferenze avevo dimenticato prima di salutarci ma sono due argomenti molto importanti che hanno una grossa valenza nazionale penso a queste due questioni quelle delle innanzitutto quelle delle unioni civili e quindi anche la questione gay e poi l'apertura ai divorziati ci sono queste due nuove queste realtà che comunque fanno parte dello scenario che riguarda una nuova che riguarda il nuovo millennio Papa Francesco ha preso delle posizioni il suo pensiero ma il mio pensiero è questo la l'atteggiamento di Papa Francesco è chiarissimo innanzitutto di una vicinanza alle persone alle persone omosessuali alle persone che hanno problemi a questo livello di una vicinanza e poi dopo anche una netta un netto rifiuto della teoria del gender cioè perché perché la natura è fatta così cioè uno rispetta 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 la natura umana fatta di uomo donna papà e mamma eccetera eccetera se ci sono altre cose è giusto che i diritti loro siano rispettati però non si può identificare come se fosse una famiglia in questo senso perciò Papa Francesco dice da un lato la cultura del gender che dice sono io che determino il sesso eccetera eccetera questo non esiste ha detto questa è una distruzione della famiglia però d'altro lato la vicinanza alle persone ma se ne devo dire anche anche per me qui in questo luogo le persone che mi visito sono di ogni tipo e a tutti c'è un'accoglienza c'è un'attenzione quindi questo è importantissimo per l'altro tema quella dell'apertura ai divorziati e questa è una prospettiva in cui il Papa ha detto vedete caso per caso quello che si può intervenire innanzitutto nessuno si deve considerare abbandonato scomunicato fuori allontanato dalla Chiesa secondo in ogni caso bisogna vedere le situazioni se c'è per esempio la possibilità della dichiarazione di nullità del matrimonio anteriore si faccia qui e su c'è proprio qui è venuta una coppia e c'è una forma che Papa Francesco ha introdotto del processo breviore più breve questi in quattro mesi hanno risolto la questione erano d'accordo i due senza andare al tribunale siamo in contatto con il tribunale regionale di Bari però io come vescovo la cosa importante di Papa Francesco che ha messo il vescovo li ascolta li sente il mio vicario giudiziale prepara il processo analizza fa tutti i colloqui poi io me li studio dico qui sono chiarissime la possibilità della dichiarazione di nullità e quindi in quattro mesi si è fatto quindi questi cammini sono i cammini giusti da percorso bene siamo al momento dei saluti un appello un saluto appello ai tarantini l'appello che posso fare innanzitutto è quello di ripigliare la ricchezza della storia la ricchezza della fede questo temperamento cordiale che io vedo molto pieno di simpatia simpatia significa partecipare insieme ai problemi non è il buffone simpatico è chi siumpatos chi soffre insieme tutte queste risorse sono possibili sono grandi allora è indispensabile un impegno comune di rinascita e di unire le forze per il bene della nostra terra questa città meraviglio quando io Rio de Janeiro si chiama Sidagi meravigliosa ma anche Taranto è proprio una Sidagi meravigliosa bene Sua Eccellenza io la ringrazio per me è stato un onore avremo modo di incontrarci e io dico avessimo avesse ogni città un arcivescovo come Sua Eccellenza Monsignor Filippo Santoro bene avete visto tre parti di Polifemo dedicate a questo dialogo a questa chiacchierata ora ce ne andiamo in pubblicità a seguire cambiamo pagina con altri argomenti pubblicità a tra poco di Polifemo di Polifemo Grazie a tutti.